buongiorno a tutti ecco il secondo video della giornata ieri al carrefour ho comprato la mia prima lille l'ho pagata 14,90 allora è terza serie ci sono cinque quattro sorprese più la apriamola ma vediamo se riesco con la cerniera sì una corona più il diamante quindi è crown jewel e lo mettiamo qua poi c'è la seconda cerniera ok ho la bolle dorata qui c'è l'adesivo e la lille cambia colore mettiamo qui sì a parte che mi pare che le lille possono solo fare quello la terza cerniera e ok apriamo allora questa è la bolle fatta così dentro qui c'è la checklist che la vediamo dopo le bustine allora qui c'è la borsa qui sono le istruzioni via e le altre bustine allora apriamo subito la borsa ed è una borsa glitterata nera fatta così con i manici ok poi qui c'è l'anellino per la bolle dorato poi qua ci sono degli occhiali da sole neri a forma di gatto e qua c'è la nostra lille vediamo chi ho trovato che carina con i capelli rosa glitterati con le mutandine rose glitterate il cerchetto nero vediamo chi ho trovato è una pitterata quindi è rara e ho trovato e ho trovato madame queen lille madame queen e la prima lille rara vediamo le altre tutte bellissime mi piace questa lille snuggle babe lille unicorn magari la trovassi infatti tutte cambiano colore allora adesso la metto un attimo nel freezer poi ve la faccio vedere un attimo eccomi di nuovo qui l'ho appena fatta uscire dal freezer e si è tutta colorata di rosa vediamo se vedete adesso fa già caldo quindi si sta già scomparendo comunque tutta rosa infatti se faccio così va già via ok mettiamo gli occhiali sono un po' grandi e nella borsetta eccola qui comunque stavo guardando le altre anche lol è bellissima unicorn si sono fissata con gli unicorni e basta ok come prima lille sono molto contenta tutta glitterata bene iscrivetevi al mio canale mettete un bel like grazie ciao